Ciao, io sono Antonio e benvenuti in questo nuovo video unboxing nerd di acquisti e arrivi dell'ultimo periodo. Ma prima di cominciare ragazzi vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice 7Potter, potete trovare tutte le magliette, felpe, calzini, scarpe, sacchie, poster, chi più ne ha più ne metta, dedicati a tutti i fandom esistenti. Ci sono delle bellissime grafiche che vengono aggiunte quotidianamente e ragazzi naturalmente sotto trovate il link in infobox. Quella che indosso oggi è proprio una maglietta di Pampling a tema NES e NASA. È un po' un gioco di parole ma mi piace davvero tantissimo. Ma ragazzi adesso direi di cominciare subito con l'unboxing, diamo un taglio alle ciance e direi di andare a scoprire cosa mi ha mandato questo mese Warner Bros. Warner Bros. questo mese ci propone in home video il nuovo Blu-ray del film Lego. Lego Movie 2, una nuova avventura. Io ho visto il primo e il secondo me l'ero perso ma so benissimo di cosa parla. Infatti non vedo l'ora di guardarlo sulla mia nuova tv perché questa volta i nemici da sconfiggere, indovinate un po' chi saranno, ma saranno i perfidi duplo. A me questa cosa mi ha fatto tantissimo ridere, questi duplo che vengono ad invadere il pianeta, Bricktown, la città dei mattoncini Lego e ragazzi niente, già solo questo mi fa ridere tantissimo. Questo Blu-ray naturalmente lo trovate sotto in infobox, se pieno di contenuti speciali come le scene eliminate o ad esempio il video musicale, molto altro perché comunque la musica è davvero molto centrale in questo film. A me il primo era piaciuto tantissimo, fatemi sapere voi sotto nei commenti se avete già visto anche il secondo e cosa ve ne pare, io non vedo l'ora di recuperarlo. Altra uscita o un video del mese di giugno mi arriva dall'ufficio stampa di Fox. Fox che invece mi ha inviato, vediamo un po' quale film. Eccolo qui, ok, questo è un film totalmente diverso da quello precedente perché si tratta del film che è stato tratto dal libro di Roberto Saviano, La Paranza dei Bambini. Un film di Claudio Giovannesi che è stato davvero molto molto acclamato dalla critica, ha vinto anche l'Orso d'Argento come miglior sceneggiatura e parla naturalmente di Napoli e parla delle baby gang in questo caso. È molto incentrato sulla figura appunto dei bambini che vengono inseriti in questi contesti criminosi e parliamo ad esempio di Nicola, questo bambino che vede la madre che ha una lavanderia, vede la madre subire l'estorsione del cosiddetto pizzo e quindi lui a modo suo entrando a far parte di una di queste bande, anzi diventando proprio lui il capo di una di queste bande, cercherà di dare una giustizia, di vendicare sua madre, di rendere più giusta questa situazione del pizzo, ma anche tante altre cose come il fatto che lui possiede una pistola è molto molto importante nel film perché appunto questo possedere un'arma sottratta illegalmente lo fa sentire più adulto e lo fa sentire come se avesse questa responsabilità di gestire lui la legge nella zona che gestisce e infatti nella sua zona non vuole far pagare il pizzo proprio perché sua madre lo aveva subito e lo aveva vissuto questa come una grossa ingiustizia, quindi ci sono anche un po' dei paradossi all'interno di questo film ma devo dire che è molto molto bello e lo consiglio davvero tantissimo, è un film che andrebbe visto secondo me anche nelle scuole. Questo film come vi dicevo distribuito da 20th Century Fox e ragazzi naturalmente lo trovate già disponibile su Amazon e in tutti i negozi, quindi mi raccomando recuperatelo e qualora aveste occasione anche il libro devo dire che è molto molto interessante. Detto questo, adesso passiamo ad argomenti un po' più leggeri e continuiamo con il nostro unboxing. Il terzo invece è un pacchetto che mi arriva da AliExpress, è un mio acquisto ed è palesemente già aperto e per fortuna l'ho già aperto perché conoscendo i cinesi che non ne beccano una ho voluto controllare il contenuto ed effettivamente mancava una cosa e ho dovuto aprire una controversia e niente, non stiamo lì a discuterne per 70 centesimi ci è voluto l'invio quasi anche di una lettera firmata da un avvocato, poco ci mancava, ma alla fine ho ottenuto il mio rimbosso e ho riordinato la cosa mancante. Di cosa si tratta? Si tratta di toppe. Sono delle toppe che rappresentano delle bandiere. Io ne aspetto ancora tre. Aspetto quella della Francia che era proprio la bandiera mancante e poi aspetto città del Vaticano e Stati Uniti perché ho ordinato queste bandierine ho ordinato queste bandiere perché voglio attaccarle al mio zaino allo zainetto che utilizzo come bagaglio a mano quando faccio dei brevi viaggi o comunque che utilizzo nei miei viaggi quando gironzolo un po' per la città e voglio attaccare una bandiera per ogni paese che ho visitato. Quindi in questo caso le ho prese appunto su Aliexpress sono costate circa 70-80 centesimi l'una quando su Amazon o su qualsiasi altro sito vengono vendute a 4-5 euro l'una quando va bene. Quindi ci sono voluti due mesi ma alla fine mi sono arrivate ne manca una ma vabbè. E quali mi sono arrivate? Questa che è la bandiera austriaca poi questa qui che è la bandiera olandese la bandiera della Tunisia mio vecchissimo viaggio poi abbiamo Belgio abbiamo la Germania abbiamo il Regno Unito poi naturalmente l'Italia e la bandiera spagnola. Quindi non vedo l'ora che mi arrivino anche le altre così da poterle finalmente far cucire a mia madre sul mio zainetto. Fatemi sapere se l'idea vi piace se qualcuno di voi magari ha già fatto una cosa del genere a me sembra una cosa carina da portare avanti e quindi le ho comprate. Quarto pacco col classico sorriso freccia di Amazon in confezione con apertura facilitata lo andiamo ad aprire ragazzi vi giuro questo pacco è messo da parte da almeno 3 mesi non di meno. Ragazzi l'ho messo da parte l'ho praticamente dimenticato volevo mostrarlo in un unboxing e non ho mai avuto occasione di aprirlo finalmente anche perché Amazon ormai non mi cambierà più nulla quindi speriamo sia tutto giusto. Allora ecco che abbiamo questo che è zero calcare e si tratta di 12. Ho acquistato questi due fumetti usufruendo di una promozione se non sbaglio spendendo 20 euro mi venivano restituiti 5 euro, 6 euro non mi ricordo, da Amazon e ho preso appunto 12 che era uno degli ultimi fumetti che mi mancavano per completare la mia collezione di zero calcare che è il mio fumettista preferito e poi ho acquistato anche un altro volume un po' più particolare che è edito da Bao e si tratta di zero calcare scavare fossati nutrire coccodrilli si tratta di un volume cartonato in doppia lingua se non ricordo male dovrebbe essere sia in inglese che in italiano e si tratta in poche parole non di un fumetto ma del catalogo di una mostra che si è tenuta a Roma se non sbaglio proprio in onore di zero calcare con tantissime sue opere si è ripercorsa un po' la sua vita la sua carriera e tutto è stato raccolto in questo volume qui mi faceva piacere averlo ho approfittato della promozione e quindi adesso eccolo qui e spero di poterlo leggere a breve sotto l'ombrellone quando andrò finalmente in pausa ma la smetto di annoiarvi con i libri che trovate naturalmente sotto l'info box e adesso andiamo ad aprire un pacco che invece mi arriva da EMP si tratta di un mio acquisto ho approfittato di una mega promozione ho applicato un codice sconto sopra e sono riuscito a portarmi a casa udite udite una bacchetta Noble Collection per soli 12,50€ circa quindi praticamente nulla e adesso la andiamo a guardare assieme non si tratta di una delle bacchette più belle fatte da Noble Collection ma per 12€ direi che ci stava e quindi l'ho acquistata soprattutto perché ho anche il Backstage Club quindi non pago le spese di spedizioni in nessuno dei miei ordini ma adesso bando alle ciance e scopriamo se ne sarà valsa la pena beh, eccola qui ho praticamente sventrato la scatola per tirarla fuori ed è qui confezionata nella sua classica confezione Ollivander quindi parliamo di una bacchetta completa di astuccio per quella cifra lì quindi davvero un grandissimo affare se solo riuscissi ad aprirla ok e si tratta di una bacchetta della serie Animali Fantastici Animali Fantastici e dove trovarli? ecco qui che abbiamo questa confezione in color grigio con le rifiniture in oro da questa parte e anche da questa troviamo lo stesso adesivo che riporta il nome del proprietario della bacchetta che è Porpentina Goldstein quindi è la bacchetta di Tina sappiamo bene che la bacchetta di Tina è una bacchetta molto semplice molto lineare quasi rigida austera quindi nulla di particolare infatti non l'ho mai acquistata perché non mi andava di spenderci 40 euro ma invece per questa cifra ho voluto tentare quindi andiamo a scoprire se è davvero così semplice scarna come appare in foto e valutiamola assieme eccola qui ok sì devo dire che non è proprio delle più belle è una bacchetta molto molto semplice è appunto come ci si aspettava ha semplicemente un'impugnatura è fatta totalmente il legno che poi naturalmente il legno non è è una sorta di resina abbastanza flessibile ultimamente hanno cambiato il materiale ed è dipinta con effetto legno tutta dipinta per intero lo stesso modo è come se fosse stata scolpita da un unico pezzo di legno ragazzi non c'è molto da dire non ci sono inserti in metallo non ci sono pietre non ci sono cose scolpite è semplicemente un manico con una fine a forma di bacchetta nulla di più molto molto semplice sembra quasi la gamba di un tavolino quei tavolini della nonna o comunque un mobile antico un mobile anni 50 devo dire che non è nulla di eccezionale 12,50 va bene ci sta niente di che ma io vi sconsiglio di acquistarla per cifre più alte almeno che non vogliate fare il cosplay di Tina e allora in quel caso ci sta tutto bene ragazzi con questo abbiamo concluso l'unboxing di giugno io spero che ci siano state cose interessanti cose che vi siano piaciute fatemi sapere qual è l'acquisto migliore qual è l'arrivo migliore fatemi sapere anche i vostri acquisti del mese sotto nei commenti c'è tanto di cui poter discutere e ragazzi naturalmente noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video arriveranno nuovi video potteriani ho tantissime cose da mostrarvi di cui parlarvi ma ho sempre troppo poco tempo ma ancora per andare in vacanza c'è tempo probabilmente nelle prossime settimane salterà ancora qualche video potteriano qualcosa della programmazione perché ho in previsione viaggi e quant'altro però i video arriveranno non chiudo il canale non sparisco abbiate solo pazienza ragazzi è stata anche per me c'è il lavoro ci sono tante cose ma io sono sempre qui e presto anche nuovi video molto molto interessanti io vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e vi chiedo come al solito di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale poi la non posta ancora iscritti detto questo chiudo il becco e vi saluto ciao 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 ciao